Buonasera dal Tg3, un'imbarcazione carica di disperati di origine albanese e approdata sulle coste sarde nei pressi della tenuta estiva del premier Berlusconi, subito alertata la guardia costiera. Buonasera dal Tg5 e ancora emergenza profughi, l'ennesima carretta del mare piena di disperati affondata davanti alle villa di Silvio Berlusconi in Sardegna. Il presidente del consiglio, dopo aver ricordato di essere stato anche lui un profugo, è riuscito a salvare camminando sulle acque più di 800 tra donne e bambini. Buonasera dal Tg4, attentato! Si tratta di attentato, una banda di albanesi comunisti si è introdotta nella villa in Sardegna del nostro presidente del consiglio, dottor Silvio Berlusconi, il quale è stato brutalmente percosso e costretto a svelare il vero terzo segreto di Fatima. E cioè, anche Berlusconi è nato a Betlemme. Per il momento è tutto, grazie e a risentirci.